porca puttana la figaggine la figaggine di questo gioco mamma mia che spettacolo ma che cazzo beh no cioè seriamente sto gioco è pieno di bug ora me ne faccio vedere alcuni ok adesso becchiamo il trampolino no 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 sbagliato sbagliato ma che cavolo cioè dove sono finito ah ottimo ho fatto un tuffo in piscina bellissimo come fare un bagnetto alla propria capra d'appartamento non mi esce neanche ok ottimo che bellezza oddio ehm signora capra mi sa che a lei le sta venendo il torcicollo sta bene tutto ok non è possibile così impalata bello 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 fuck the tear aia 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 signor tear scherzavo aia ma che cavolo basta aia porca miseria polpettine di capretto che sta succedendo si dove sono merda sono finito fuori dalla mappa ma che cacchio sono morto e questo è il paradiso via segui la luce via giù verso l'inferno il capretto deve essere sacrificato a sadana niente potremo stare così per ore giusto capretto mio vai continua a scendere nel profondo inferno ti stiamo aspettando complimenti bel modo di salire le scale beh anche mi zio d'altronde che c'è il torcicollo sale le scale così ha detto che è un ottimo rimedio per la cervicale se sta a fare un bagnetto ragazzi guardate come scivola non ce la posso fare ma che cos'è ma dai guardate il culetto ecco così è mettersi a pecorina vedete oddio mio a culo all'aria andiamo bene divisi a metà la capra di david copperfield boh super bug tutto bene non ti preoccupi non si preoccupi mia che ah sono tornato di nuovo in piscina ma che vabbè vai nello sprofondo buttateci a te buttateci a te in fondo al mar la 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 capretta in fondo al mar cosa è successo la capra roccheggiante ho sparito ah eccolo si è trovata la casetta vedete sono la capra di satana del demonio oh mio dio no ma che cazzo è la capra in demonio davvero ovviamente c'è satana dentro sto gioco ma perché perché fai così ci sono loro parole satana oddio ma che cazzo non ce la posso fare basta spaccare tutto tutto bene mamma ok tutto bene no seriamente devo commentare aiutatemi uccidetemi uccidetemi aiuto uccidemi uccidemi vabbè questo ormai è la normalità incastrarsi nei muri questo gioco è come far colazione alla mattina è una cosa che capita tutti i giorni gioco tipo una capra satanica no basta uccidemi ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto come al solito vi ricordo di lasciarmi un bel pollicione su e anche un commento fatemi sapere cosa ne pensate di god simulator fatemi sapere se voi anche avete riscontrato bug pessimi il gioco comunque è fuori di testa completamente questo gioco lo posso riassumere come una bomba di merda scoppiata dentro una pasticceria fa ridere ma fa anche molto schifo condividete il video su facebook per far vedere tutti questi bug assurdi noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video io vi mando un abbraccione un salutone e ci dice ciao gente le piace il mio bazooka quando lo tiro fuori lo guarda sempre tiro fuori il bazooka e mi guarda rinfino dentro e si gira tiro fuori il bazooka e mi guarda ehi chop chop guarda quelle milfone tettone le voglio le voglio guarda ti piacciono quelle belle milfone tettone vai a giocherellarci un po chop bello cagnetto come il padrone vuole giocare con le milfone cagnetto